Mia cara, io sto bene. E anche i tuoi figli stanno bene. Camus è innamorato di una ragazza francese. Mi ha scritto una lettera. Ecco, stai a sentire. Camus è innamorato. Che amo tanto. Fa vedere la sua foto alla mamma. Eccola. Io non ti dimentico. Io non vi dimentico mai. Tuo figlio Camus da Parigi. Ecco, lo vedi? Lui sta bene, è contento. Però è un figlio ingrato. Lo sa che qui non c'è lavoro. Che la mia pensione non arriva a dieci dollari. E non mi ha mandato nemmeno un centesimo. Ma non ti preoccupare. È mio figlio. E io gli voglio bene lo stesso. Questo è importante. Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info